Stavo percorrendo via tagliamento quando dei grossi rami sono volati sulla mia auto. Nemmeno il tempo di inestare la retromarcia che il fusto di una pianta si è battuto sul parabrizza, infrangendo i vetri della macchina. Per fortuna solo un grosso spavento, anche perché con una manovra sono riuscita ad evitare il peggio. Così la conducente è scampata al dramma ancora provata per l'episodio di cui è stata vittima. Il crollo si è verificato stamani intorno alle 11.30 all'altezza della villa di Marzio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l'aria e i caschi bianchi. A provocare il cedimento di rami arbusti sono state le forti raffiche di vento che si sono abbattute con violenza in tutta la città, causando più di un incidente.